20 novembre 1972, muore Ennio Flaiano, scrittore, sceneggiatore e giornalista, umorista caustico e pungente. Dal 1943 inizia a collaborare con registi del calibro di Fellini, Blasetti, Monicelli e Antonioni, ma fu soprattutto lo sceneggiatore preferito di Fellini. Ha la migliore sceneggiatura, a Pinelli, Flaiano, Rondi e Fellini naturalmente, per otto e mezzo. Al cinema e alla C.K. di Roma lo legherà per sempre un rapporto di amore e odio. Ha l'intelligenza e la sensibilità di comprendere i processi politici, sociali e di costume in corso e prevedere scenari futuri. Fra trent'anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la TV. Sulla targa posta davanti alla sua casa a Montesacro è scritto Qui visse Ennio Flaiano, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole.